Amici ben ritrovati ancora una volta da Iberdi Marti, oggi video informativo lascia il nostro setup definitivamente il Samsung Galaxy S20 5G usato come smartphone e come camera phone per tutti i video che ho girato finora e troviamo invece l'ingresso con impostazione number one dell'iPhone 12 Pro Max top del top